L'arte terapia è uno strumento utile a costruire solide relazioni che con il passare del tempo potranno incidere positivamente nello stile di vita delle persone che la praticano. E' proprio grazie al potenziale comunicativo dell'arte a idee, disegni e racconti che ha preso vita l'azienda 2021 della Cooperativa Azzurra. Sono stati formati anche dei gruppi di scrittura che hanno deciso di scrivere dei raccontini che prendessero spunto dai temi sviluppati. In realtà abbiamo scelto due testimonial come parallelismo rispetto al giro del mondo in 80 giorni, quali Phyllis Fogg e Passepartout, che accompagnassero un po' la struttura delle storie. I personaggi sono stati resi visibili attraverso anche il contributo generoso di Leo Milani, che si è prestato gentilmente per gli scatti dei ritratti dei personaggi che sono stati inseriti nelle storie. Si è così voluto dare un po' una visibilità anche fisica alle persone che hanno, come dire, reso possibile questo progetto. In questo periodo difficile per tutti speriamo di farvi divertire e viaggiare con l'aiuto della nostra fantasia. Per me è stato bellissimo collaborare, facendo dei disegni e altre storie sulla città. Mi è piaciuto molto fare le agende e come vedete sulle agende sono il sottomarino, il guidatore, l'autista sottomarino e spero che vi piaccia.